numero 5 lo specchio per gioielli laccato opaco bianco misura 112 centimetri di altezza per 9,5 di profondità per 37 di larghezza e il suo specchio reclinabile misura 101 per 26 centimetri il suo interno è foderato di velluto nero e a 24 ganci per orecchini 3 file di 15 ganci per collane e 5 scomparti ha anche una serratura per mantenere i vostri gioielli al sicuro se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 4 lo specchio per gioielli misura 120 centimetri di altezza per 9,5 di profondità per 36 di larghezza ed è fatto di legno il suo interno è foderato di velluto nero e a due ripiani per anelli tre ripiani per cosmetici profumi e occhiali una barra per sciarpe cravate o orologi 10 spazi per collane e 45 slot per orecchini ha anche una serratura per mantenere i vostri gioielli al sicuro acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 3 lo specchio per gioielli misura 153 centimetri di altezza per 36 di profondità per 41 di larghezza e il suo specchio reclinabile misura 108 per 37 centimetri il suo interno è foderato di velluto nero e a 36 fori per orecchini 108 ganci per orecchini 24 ganci per collane 2 per bracciali e spirali 78 fori per anelli 3 scatole rimovibili e 5 scomparti per il trucco e la bigiotteria ha anche una serratura per mantenere i vostri gioielli al sicuro se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 2 lo specchio per gioielli misura 161 centimetri di altezza per 54 di diametro e il suo specchio misura 144 per 26 centimetri il suo interno è foderato di velluto nero e ha una capacità per 91 anelli 90 orecchini 30 collane 30 fori per orecchini 5 scomparti e una borsa lo specchio ruota di 360 gradi e incorpora tre ripiani per mettere vestiti borse o bigiotteria e aumentare ancora di più lo spazio di stoccaggio disponibile in diversi colori come bianco laccato nero e rosa trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione numero 1 lo specchio per gioielli misura 160 centimetri di altezza per 41 di larghezza per 36 di profondità e il suo specchio reclinabile misura 120 per 37 centimetri il suo interno è foderato di velluto nero e ha una capacità di 98 anelli 6 ganci per ciondoli 5 ripiani 10 ganci per collane o braccialetti e 18 ganci per orecchini o collane include anche una serratura e due chiavi per proteggere i vostri preziosi gioielli disponibile in diversi colori puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione il prezzo di questo articolo cliccando nel video